Ehi, l'amico è appena serrato vicino a me. Non avrete il capo. 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 contatto. Non avrete il capo. andiamo da quella parte i need to light demo grazie lo spettacolo non è ancora finito andiamo da questa parte potrebbe esserci del bottino do un'occhiata ignorano nemico proprio mi stanno colpendo mi hanno individuata mi stanno sparato guardo oltre il velo ricarica scudi in corso ricarico gli scudi ricarico gli scudi ricarico gli scudi Ascoltate Mi stanno contendo Attenzione, granata Prego, mi si è Recarica, studio in corsa Ascoltate, sono sottotiro Cecchino, non stare lì Sono attento di munizioni leggere Devo curare, uso un kit fenice Devo ricaricare gli inscudi Ascoltate, sono sottotiro Granata, termite, lanciata Bersaglio, laggiù Cosa si c'è l'oltre il vino? Siamo già nel prossimo nello, leggenda Recarica, studio in corso Qui c'è un mercato nero Valigiamolo Sto ricaricando gli scudi Qui c'è una porta chiusa Sono a corto di munizioni leggere Non lo so Non lo so Non lo so Non essere timido Saluta Devo ricaricare i miei scudi Ricarico gli scudi Ho sgonfitto il nemico Non importa Un gran kit felice Contatto con il nemico Qui c'è una porta chiusa Abbasso il vino Contatto con versante Ricarico Postido eliminato Un secondo Possiamo farci Ho sgonfitto il nemico Un momento Sto usando un kit felice Mi servono munizioni leggeri Andiamo da questa parte Qui ci sono munizioni leggeri Qui c'è un replicatore Siamo già dentro Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Nuovo leader uccisioni Le etichette ti rendono un bersaglio facile Sto creando qualcosa Un secondo Sto creando qualcosa Ma non abbasso la guardia Sto creando qualcosa Un momento Qui c'è una batteria Qui c'è un kit felice Qui ci sono munizioni leggere Manca un minuto amici L'enello è vicino Qui c'è un kit felice 45 secondi Qui ci sono munizioni energetiche Qui c'è una porta chiuda 30 secondi Alla chiusura dell'anello Qui ci sono munizioni leggeri Penso che qui ci sia stato qualcuno Attenzione Qui c'è una Capsula assistenza Fantastico Siamo tutti dentro questo anello Nemico da quella parte Now wait for the lost team Non siamo tutti nell'anello Controllate le mappe Contatto con il nemico Contatto Sto andando l'azione One knock one knock one knock Ricarica scudo in corso Ricarica scudo nemico distrutto Contatto con l'emico Ricarico Ricarica scudo nemico distrutto Ricarico 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 Sì Nemico, proprio qui Ricarico gli scudi Contatto Sollevo il velo 45 secondi, il territorio è vicino Ricarica scudi in posto Scudo nemico in frattura Ricarico 30 secondi Siete i campioni Apex Siete i campioni Apex